Oggi mi presento! In tanti sotto i miei video su TikTok mi avete chiesto ma tu chi sei? Come ti chiami? Io mi chiamo Jürgen Akhani, sono di origine albanese e ho 26 anni. Chiamo l'Italia una dolce metà perché 13 anni li ho passati in Albania e 13 li ho passati in Italia. Sono un flair bartender, sono un barman, sono un bartender. Raga, chiamate come volete, io sono uno che fa dei cocktail e che lancia delle bottiglie. Non mi chiamo Balcanico Gin. Balcanico Gin si chiama il mio prodotto, come avete visto, un prodotto di 13 botaniche, di un alcol artigianale con il miglior alcol in Italia. Ho deciso di produrre questo alcol in Italia perché la qualità in Italia è ottima. Mi avete visto ora che faccio dei video in italiano, di solito forse avete visto qualche mio video che parlavo in albanese. Io mi sono sempre occupato ragazzi di produrre dei contenuti solo in albanese perché ho cercato di stimolare quei ragazzi che hanno l'età mia di cercare di fare questo lavoro perché questo è un lavoro bellissimo. È un lavoro che ti fa avere sempre contatto con la gente, ti fa insegnare tante altre cose e molte di più. In Albania questo lavoro viene visto come un lavoro, diciamo la verità, come un lavoro di merda. Però non è perché è veramente un lavoro bellissimo. Io lo faccio per passione e per questo ho cercato di fare sempre contenuti in albanese cercando di stimolare il più possibile quei ragazzi per esempio all'età mia di cercare di fare questo lavoro. Io non ho fatto solo i contenuti in albanese, non ho fatto soltanto video ma ho scritto anche un libro. Ho scritto un libro che si chiama Nukian Barman Potbohe. In italiano vorrebbe dire non sono un barman ma lo diventerò. Perché ho cercato di mettere questo titolo accattivante, come possiamo dire, forte. Ho cercato di mettere questo titolo per cercare di incoraggiare di più quei ragazzi che vedevano i miei contenuti perché grazie a Dio ho fatto tanti viewers, tanti seguaci e tanti hanno comprato questo libro. Questo è andato sold out, possiamo dire, subito. All'inizio ho prodotto 250 copie e sono finiti in questione di due settimane. Ne ho prodotte altre e anche quelle sono finite. E per questo ragazzi, grazie a loro, cioè grazie a me, tanti sono iniziati a fare anche questo lavoro e mi mandano delle foto, dei video, Jürgen, guarda, che sto facendo grazie a te. Questo per me è un orgoglio veramente grande. Questo l'ho fatto nel 2021. Il gin è stato nel 2022. Nel 2023 ho preso una strada con voi. Per raccontarvi chi sono io, cosa faccio, il mio prodotto e il mio tutto. Io ho iniziato con TikTok, ho iniziato a fare i video su TikTok e ho avuto un successo, diciamo, subito. Tanti mi hanno seguito, tanti mi hanno criticato. I primi video sono stati quelli con l'Apero Spritz e i veneziani me l'hanno commentato di brutto. Però ragazzi, io sono questo. Se mi volete seguire, io qui sul mio canale porterò dei video come preparare dei cocktail, come prepararli a casa perché qui siamo a casa mia. Questo è un piccolo bar che io ho costruito nella mia stanza. Qui c'è un po' di tutto, c'è un po' di tante attrezzature, quelle che servono per prepararvi a voi dei cocktail. Vi farò vedere i cocktail internazionali che ho scritto nel mio libro in albanese più dei cocktail semplici da preparare a casa. Se mi volete seguite il mio canale ragazzi, il mio prodotto Balcanico Gin lo potete acquistare, vi farò vedere di più come acquistarlo. Se volete sapere qualcosa di me, quel cocktail che volete preparare, commentatemelo qua e io ve lo faccio nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.